musica musica anche in questa posizione si fanno abbastanza bene sul metodo di mediano basso d'oro già l'ho provato l'anno scorso si nasce più niente ti hanno definito un morrone giovane, è vero? magari hai le stesse caratteristiche di morrone? diciamo così, ho tanta corsa è un grande piede speriamo di fare un minimo della sua radiera che è stato un grande mi ha chiesto di attaccare gli spazi visto che Ghezzala magari veniva a prendere più palla, delle volte voleva più sui piedi, io di puntarmi dietro ai difensori io ero proprio misto sono abbastanza bene anche su questo aspetto come condizioni atleti o come stai se dovessi dare una percentuale beh, pensavo peggio alla fine ho fatto tutta la partita sinceramente pensavo mi piacevo, si trovava molto bene e all'ultimo, diciamo, un buon corso è un punto che sta bene alla pena? c'è un po' di rammarico perché se abbiamo un vizio di fortuna in più su qualche tiro, su qualche azione potevamo portare a casa i tre punti che avevamo molto importante, però dall'altro lato abbiamo avuto quell'occasione però abbiamo rischiato stare sana, beh, fa tutto però ci prendiamo questo punto spero di fare le monti e più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti